Ascaldi un pochino, no? Sì, sì. Perchè? Sono triste, no? Guarda, che cosa mi manca? Guarda qui. Guarda qui. Esos animati. Quanti sono? Due. Sì. 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 Ah, dai, grazie. Sì. Sì. No, no, grazie. Ah, è vero, perché c'è stato potendo qui... Sì. Sì. Allora, non si... Allora, non si... Allora, non si parla. Nulla,, non ci si parla, non si parla. E non si parla, non si porla... C'è nulla che... Lo mèo, non si è avvicinato. Tu, non d'ora. Tornare, non si è avvicinato. E adesso... Ritso. Sarino un preghetto in locker, non si, ma mi dicevo... E se... Non ci sono tie îgue ditevi... ausol 곳... Non è così, a... O, la st comincia... Dovissindridai tr Konfer. Si puoi un'ify actually.... un pezzo con la cipolla e uno con i carciofi guarda un inter divisi come vuoi no 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 non vedrai come sono il baggio fuori posso metterlo via a scontriere no no grazie no no vorrei Grazie. Grazie.